E' venuto in avanti Ruggeri, lo marca Serena, attenzione c'è il pallone che termina in gol, c'è stata una deviazione e c'è stato Diaz che ha battuto a rete, lo vedete sul tante, il suo tiro è stato deviato e siamo sul 2 a 1, al 17esimo del secondo tempo, rivediamo il tiro di Diaz, c'è una deviazione e la palla che termina in gol. Il calcio di punizione di Garret, il colpo di testa di Batista, il tiro di Diaz, la deviazione.